Casa Sanremo Writers, abbiamo il piacere di avere qua con noi Dario Salvatori, ciao Dario, benvenuto a Casa Sanremo. Come stai innanzitutto? Grazie di avermi invitato, il festival è partito e quindi siamo tutti felici, adesso vediamo quello che succederà, se sono pronti loro, noi siamo pronti, vediamo. È sempre una settimana bella impegnativa per chi fa il nostro lavoro, a tempo stesso anche divertenti, diciamo la verità. Beh sì, io torno a casa. Senti, hai tenuto il conto di quanti festival di Sanremo hai seguito nel corso della tua carriera? Sì, 47, con questo 47, ma questo perché diciamo ho cominciato molto giovane a fare questo lavoro e poi scrivevo su un giornale che si occupava probabilmente di rock o di pop, insomma, che era a Cia 2001, uno storico giornale per giovani e giovanissimi, ma io sono venuto l'anno dopo la morte di Tenko nel 68, che è stato il primo festival di Baudo, fra l'altro, e poi però nei primi 70 non si veniva, perché era troppo racchio il festival di Sanremo, perché vencevano gli Homo Sapiens, i Collage, Gilda, quindi non si veniva, insomma, era anche antiproduttivo. E poi invece ho ripreso nella seconda parte degli anni 70 e quindi sono arrivato a 47. Sei arrivato invece alla decima edizione del tuo dizionario della canzone, che è Il Salvatori, è uscito da qualche giorno l'edizione del 2023, l'edizione aggiornata. Stiamo parlando di oltre 20.000 schede? 20.000 schede di canzoni di tutti i tempi e di ogni nazionalità, per cui ci sono anche cose particolari. Ovviamente ci sono anche i capolavori, ma c'è anche la minutaglia, c'è anche un po' di serie B, è evidente, non è che ci sono 20.000 capolavori, però poi il pubblico generalista va a vedere la canzone, dove ha conosciuto la moglie, dove si è sposato, dove ha fatto questo incontro, dove è stato, ma insomma, ecco, le canzoni servono anche a questo, è una narrativa della memoria che aiuta in qualche modo. La prima domanda però è inevitabile, come le hai scelte e quali hai tenuto fuori dal tuo dizionario? Beh, ripeto, 20.000 sembra un grande numero, però se tu pensi che i grandi gruppi, tipo Spotify, hanno nel loro scrigno 120 milioni di canzoni, allora ti viene da... però è ovvio che lì, perché c'è lo streaming, quindi ognuno fa uno scarico, è un fatto societario e il mio nasce come fatto, diciamo, passionale in qualche modo. Io ho fatto diversi libri residence che hanno, nascono in un posto e poi si fermano lì, quindi, diciamo, sono libri che in Inghilterra e in America vanno molto per la maggiore, in Italia un po' meno perché l'editoria è meno ricca, quindi tu fai un libro così, poi l'anno dopo è vecchio, allora ti conviene farlo, diciamo, mutuato da quelli, io mi sono ispirato allora a quelli del cinema, cioè Mereghetti, Monendini e questi qua. Loro lo fanno da 30 anni, io da 10, sai, però nella cinematografia c'è molta pubblicistica e saggistica, nella storia delle canzoni io mi sono basato sui miei archivi che fortunatamente, insomma, sono belli carichi. Composi, belli interessanti. Senti, c'è un aspetto che però forse è differente rispetto al mondo del cinema, si ha un po' l'idea che nel cinema, una volta data la valutazione di un film, di un'opera, sia una valutazione un pochino più valida in eterno o comunque nel tempo. Nella canzone invece magari la valutazione che viene data nel giro di qualche anno un brano può essere rivalutato, può cambiare anche l'importanza di un brano. Perché sono due comparti diversi, il cinema, voglio dire, se c'è via col vento e dai cinque stelle è difficile che possa cambiare, però è anche vero che ci sono remake migliori del precedente, non so, Psyco di Hitchcock, quello del 60 è un capolavoro. Quelli poi rifatti con Anthony Perkins e dopo, insomma, sono sicuramente più deboli. E quindi la canzone però può avere questo che se la reinterpreta qualcuno e cresce. Cioè per esempio Ray Charles ha fatto cover dei Beatles di tante cose, anche di canzoni italiane eccetera, come l'ha fatta Nat King Cole e quindi se la fa uno come lui le stellette salgono. Questa è la storia. È evidente. Io sono un grande appassionato di cover e una parte, una caratteristica molto bella del dizionario di Dario è proprio il fatto che di molte canzoni vengono citate, oltre alle versioni originali, anche poi le cover più interessanti. Sì, e lì è stato un lavoro improbo e veramente molto faticoso perché considera che nelle canzoni principali, non so, per esempio nel Blu dipinto di Blu, sono due pagine di libro soltanto di chi l'ha incisa. Oppure Stardust. Stardust ha anche due pagine. Oppure, che ti posso dire, due o tre pezzi storici di Gershwin, Summertime e altri ancora. E allora lì sì. Poi altre le puoi chiudere anche in poche righe, però le metti e fai vedere. Diciamo, dizionario della canzone, ma canzone a 360 gradi perché hai appena citato, come dire, ambiti musicali molto differenti. Sì, sì, sì. Ma è curioso notare che la canzone esisteva prima dei dischi, poi i dischi sono morti e la canzone è ancora fra noi. Questo ci fa un po' riflettere insomma, che vuol dire che non sono, diciamo, gli utensi o le cose che utilizziamo per ascoltare musica, diciamo, no? E tutto il resto che c'è dentro, c'è l'editoriale, no? E anche l'aspetto passionale. Poi, ovviamente c'è da dire questo, che io ho visto per esempio tutti i cantanti che l'hanno avuto, l'hanno letto, oppure è arrivato qualcosa, e lì tutti quanti vanno a vedere le stellette? Le stellette, eh. Cioè, magari non leggono una cosa, dice questo magari, allora mi dice, ma chi mi ha dato due stellette? Ma questo è in capolavoro, mi ha dato due stellette. Poi ti fai anche molti nemici, questa è la verità. Sì, chi è che si è offeso, Dario? Ma, vabbè, per esempio, quelli che ho come amici, un po' si sono affesi, tipo Don Baki, tipo Vianello, ma anche quelli più vicini a noi, insomma, Negra, Amaro, questi qua. Allora, è chiaro che io faccio la storia della canzone mettendo le cose vere e qualche aneddotica, anzi molto aneddotica. Poi però prevale un po' il gusto personale, ognuno di noi ne ha. Ecco, io qui ho un aspetto, il mio genere preferito da sempre è la musica afroamericana, partendo quindi dal blues, dal rhythm and blues, dal rice record, dal Buki al Funky, fino ad arrivare ai nostri giorni, no? Del resto anche il rap è musica afroamericana, però rispetto a quello che fanno in Italia, di cui non mi piace nessuno, in America mi piacciono molti dei rappers americani. Senti, delle 20.000 schede, quante sono dedicate percentualmente al festival di Sanremo? Che rilevanza ha il festival? Ma questo te lo posso dire con certezza, di Sanremo ce ne sono 250. Ok, beh allora hai fatto una bella scrematura. Sì, sì, anche perché come ti dicevo poco fa, insomma ci sono stati degli anni veramente tosti, però a me ogni tanto piace mettere anche la serie B, piace mettere anche le cose che non ti aspetti, no? E anche lì mi sono fatto qualche nemico, perché per esempio non so, c'è un compositore di musica classica e contemporanea, cioè per musica contemporanea non si intende quello che dice Fazio, perché poi crea degli anni, questo sarà un festival contemporaneo, allora uno che ne sa un po' di musica dice, ah quindi è un festival dedicato alla musica contemporanea, che ovviamente non può essere Sanremo evidentemente, però lui ha imposto questa locuzione che è ancora una locuzione che prevale, è nella bocca di tutti, Baglioni l'ha usata, Morandi l'ha usata, Conti l'ha usata e Amadesto l'ha usata. Che vuol dire questo? Niente, perché se dici musica contemporanea, siamo parlando di Berio, di Nono, di Busotti, di chi parliamo? Ecco, no, parliamo di rappresentante di lista, eh vabbè allora è un po' diverso. Con altri aspetti però dal festival di quest'anno hai già adocchiato canzoni che sulla carta secondo te potranno entrare a far parte del volume del prossimo anno? Guarda, io credo che questo sia un cast un po' complicato perché ci sono cantanti che hanno patito diciamo la trascuratezza del pubblico e loro stessi hanno trascurato il pubblico e quindi anche se sono nomi noti, pregano per un'illuminazione di nuovo perché voglio dire, non so, Giorgia che è sicuramente una delle cantanti più tecniche che abbiamo in Italia però non ha un pezzo in classifica da 12 anni, Anna Oxa ancora meno, ne parliamo, quindi Paolo e Chiara si sono dovute ricostituire, insomma le carriere che avevano pensato per se stesse non hanno funzionato, quindi c'è una riunione e allora questo insomma ti fa vedere quanto può essere cinico questo mestiere, no? Cioè non è che si mettono insieme Samerger, Funk che hanno passato la vita a litigare e poi ogni tanto volevano fare 400.000 persone al Central Park e andavano, poi ci andavano dopo, poi litigavano, poi no, qui stiamo parlando di altro insomma, no? E poi tutti quanti vengono qua, la vittoria ormai conta poco, prima si gareggiava come una gara sportiva perché non c'erano i comici, non c'erano gli ospiti d'onore, quindi era gara, era proprio contest. Adesso pochi sono interessati alla vittoria, però l'esposizione che da sapremo è enorme e quindi i tour li puoi fare, questo è. Però ci sono stati anche tanti anni in cui la gara era gara eccetera eccetera, ma c'erano vincitori annunciati già nelle settimane precedenti del festival, cosa che magari adesso capita un pochino meno, o quelli che arrivano da vincitori annunciati poi insomma porta un sfiga arrivare. Questo è successo almeno per tre, quattro anni di seguito per le vittorie di Cocciante, di IPU, ecco questo insomma non ha portato molto credito al Festival di San remo perché lì c'erano già le copertine fatte, le cose quindi io non so bene come andò, però si usciva da un brutto periodo come ho detto poco fa, gli anni settanta. Quest'anno sono proprio oltretutto c'è la ricorrenza, sono 40 anni da uno dei momenti che hanno segnato il Festival di Sanremo, la presenza di Vasco Rossi nell'anno di Vita Spericolata. Secondo te c'è dietro l'angolo la possibilità che un nuovo personaggio, una nuova canzone come Vita Spericolata passi attraverso il Festival di Sanremo? C'è la possibilità che un personaggio del genere arrivi al successo tramite il Festival oppure no? C'è la possibilità che possa uscire dal Festival di Sanremo una canzone del genere ma ci vuole innanzitutto un interprete di quella portata o anche un esecutore di quella portata quindi qualcuno che la scriva per lui, ma poi c'è il fatto che quelli che comunque sono popolari o che hanno successo ormai non tornano più a Sanremo, questa è la cosa, io l'ho contato sono otto, a parte i defunti, però Venditti non è mai venuto, De Gregori non è mai venuto, Cuccini non è mai stato, Ligabue nemmeno, Bennato arriva questa volta nell'anno a doppiare a fare l'ospite del giovedì e quindi sono otto che pesano insomma, quindi conta. Senti io appartengo per motivi anagrafici ancora a una generazione che era legata al giudizio del critico musicale, cioè io leggevo i giornali, leggevo, hai citato prima Ciao 2001, Rockstar è quello che era il giudizio di Giampiero Vigorito, Enrico Sisti, Peppe Videtti, era caspita aveva una valenza particolare, e anche il parere, insomma il giudizio di un critico musicale cambiava la carriera di un cantante in quegli anni, adesso forse è un po' cambiato, non è più così, avete un ruolo un po' diverso? In generale la critica conta meno nella musica, quasi nulla, tant'è vero che i concerti non si recensiscono più, si presentano e basta, questo ovviamente toglie molto a noi perché insomma se tu devi presentare, sono tutte presentazioni che sono soffietti, cioè non puoi dire guarda che schifo questo, non l'hai nemmeno sentito, quindi ci toglie qualcosa che è il nostro mestiere, quindi diciamo le recensioni si fanno solo nel caso degli eventi, cioè se arriva a Springsteen lo presenti prima, cerchi di intervistarlo e fai una recensione, ecco ma sono pochi questi nomi qua, saranno dieci in tutto, nel mondo, quindi ci priva di questo, viceversa il collega cinematografico ancora può uccidere un film, può un regista, ancora ha un peso, addirittura quelli di balletto hanno un peso, quelli di teatro, sai il teatro è legato alla durata del lavoro in sala, in teatro, quindi è un comparto il nostro che è stato massacrato proprio da questo insomma, perché i quotidiani hanno cominciato a ignorare la recensione e rimangono i lanci, ma io non voglio fare il lancio, ti prendi uno spazio pubblicitario e ti fai il tuo lancio perché lo devo fare io per te. Il tuo dizionario della canzone però non è solamente un manuale dedicato agli addetti a lavori, a chi lavora in ambito musicale che trova l'informazione giusta al momento giusto, è una bella lettura e interessante anche per il pubblico perché è pieno di aneddoti, di storie legate alle canzoni, adesso a me viene in mente per esempio la storia che c'è dietro la canzoncina che tutti conosciamo dell'Happy Birthday per esempio, giusto? Quella è una storia incredibile. Quella è una storia da cappe spada che parte dall'Ottocento, quindi veramente quella io ho dedicato molto tempo, ogni tanto si aggiunge qualche nipote, qualche cosa, quindi è perché matura l'ira di Dio di denari, quindi questo è vero. Poi io naturalmente affaccio questa ampia introduzione di 30-40 pagine per vedere diciamo che tempo che fa, ecco questo è vedere come riapro e rinnovo l'introduzione portando i dati dell'anno appena concluso, in questo caso del 2002, quindi vedere come sono partite le cose, cos'è che ha funzionato, com'è che non ha funzionato e poi ci sono delle curiosità che metto in quell'introduzione. Certamente sembra strano ma ogni canzone ha una sua storia, questo è pazzesco. E le storie dietro le canzoni sono la parte più affascinante perché le storie che racconti sono le storie di come non solo è nata la canzone ma anche poi del viaggio che poi queste canzoni hanno fatto, dei giri che hanno fatto per arrivare al successo. Sì, è come no, è così perché può essere anche silente per tanto tempo una canzone, però poi c'è qualcuno che ti dà una ciambella di salvataggio, non so, negli anni 90 è stata per esempio quando gli spot pubblicitari sceglievano delle musiche straordinarie, arrivò in classifica da noi Nina Simone, Nina Simone non è mai stata in classifica in Italia e pochissimo anche nel resto dell'anno. Perché? Perché era uno spot così, oppure Etta James, Etta James insomma è una che piace soltanto agli afroamericani in America eccetera, però poi da lì tutti i talent, tutti i ragazzi che volevano presentare questa canzone di Etta James e provavano a farla e allora là capisci la forza della televisione, della pubblicità, di tutto il resto insomma, bravi creativi che sceglievano queste canzoni, assolutamente. Senti c'è però, lo so che è difficile insomma, ti faccio fare una scelta un po' troppo drastica, ma c'è una canzone a cui sei particolarmente affezionato, c'è la canzone perfetta, il brano definitivo secondo te nella storia della musica pop? Beh guarda... Dico la mia, yesterday dei Beatles per tanti anni è stata considerata la canzone perfetta. Sì, guarda, anche io come tutti ho i miei punti deboli, le cose che amo di più. Una, mi sembra poco su un dizionario di 20.000, però tieni presente che io per tanti anni ho diretto una collana editoriale dall'editore Donzelli dove facevo, non io, anche con una squadra che avevo fatto, ogni canzone è un libro e questo è un esercizio pazzesco perché fare 200 pagine su una canzone devi essere un appassionato, devi essere un competente, e ho fatto sia quelle italiane che quelle classicissime. Poi io ovviamente fra queste canzoni c'erano naturalmente i grandi, come tu hai sottolineato, gli yesterday ma anche altre ancora, però c'erano anche quelle italiane, non so, estate di Bruno Martino io l'ho messo, oppure nel blu dipinto di blu, oppure tante altre cose, Caruso e quindi ci stava. Per me mi sono lasciato Rock Round the Clock perché ha fatto della storia a partire dal 54 quando è nata e poi invece da un altro editore ho pubblicato un'altra canzone che questa mi sta ancora più a cuore che è Satisfaction, che è peraltro la mia mail si chiama Satisfaction. E lì c'è veramente tutto perché c'è la delinquenziale passione per gli Stones, c'è la capacità di sentire questo testo che sale in continuazione, che non trova la soddisfazione, in questo caso di Mick Jagger che ha scritto il testo, non riesco a, I try, I try, non riesco a essere soddisfatto fino alla fine, quello è un mantra straordinario. E poi la trovata del fast box che noi abbiamo chiamato distorsore, ma lì veramente eravamo talmente ignoranti su quello che accadeva in sala di registrazione che sembrava che fosse un sassofono. Questo, cioè, il distorsore lo usava anche Eric Clapton, Jimmy Hendrix, quello che usò Keith Richard sembrava un sax tenore. Tutti quanti noi dicevamo, oh, ma gli Stones hanno messo un sassofonista. Era quella distorsione di Keith Richard. E ancora la fanno in concerto. Insomma, questa è la storia. È stato con noi a Casa Sanremo Writers Dario Salvatori, nelle librerie il volume aggiornato al 2023 del suo dizionario della canzone. Grazie Dario. Grazie, grazie a voi dell'ospitalità e buon Sanremo.